Ciao, grazie per prima, ha veramente funzionato la switching channel thing. Posso chiederti, ti conosco? Questa è quella dell'altro canale, non ti ricordi di me? Credo che sia la prima volta che ci incontriamo. Ah, scusami, devo averti scambiata per qualcun'altra. Ma non ti preoccupare, dobbiamo sembrare tutti uguali dal tuo punto di vista. Scusa, non ti preoccupare, non devi scusarti. Hai bisogno di un libro? Magari ti posso dare una mano? Cerco sempre di tenere tutto in ordine, no? Per caso c'è un'uscita più che un libro, avrei bisogno di quella? Un'uscita sicura? Tutte le uscite qui sono sicure. È una libreria, è una biblioteca, tutto sommato. Certo. Oh no, il knock knock guy. Please, don't. Ok, quindi devo solo ritrovare gli stessi libri, qua non si tricchera. Se ritrovo gli stessi libri, in teoria, la risposta è zero, no? Wow! Sei effettivamente capace di fare questi generi di calcoli? Chi l'avrebbe mai pensato? Dio, è vero no. Che bello, lei si ricorda. La question 3 è... Ah, parte 3. Ma la parte 1 dov'è? Eh, un giorno la tizia che inchiostrava tutto, la principessa finì nel paese della carta. Niente, siccome inchiostrava tutto e tutto ciò che doveva essere bianco diventava nero, quando ci passava lei, per proteggere la città, a qualsiasi costo, hanno deciso di catturare la principessa dell'inchiostro e metterla nella prigione. Sembra non finito, va bene. Credo di aver trovato la 1, forse manca la... No, la 3 l'ho trovata, quindi credo che funzioni adesso la porta. C'è la prima volta che devo risolvere un puzzle per aprire una porta, ridicolo. Non ti preoccupare, io so la risposta. Grazie. Ma come? Questa box è piena di schifezze. Salviamo. What the fuck, guy? Aspetta. Eccoci, era sotto. Le cose cambiano da un canale all'altro, eh? Mi fate venire un colpettino. Mi piace farmi prendere i colpettini? Apri la porta. Oh, porca zoccola, qua è diverso, quindi il contrario. Charlotte, ma sei sicura? No, la inserisco io. No, Felix, non la toccare. Ma perché sei tutta attenta, tutto un improvviso? Siamo già stati qui. Ho cambiato il canale. Che cosa significa? Non credo di riuscire a farmi spiegare. Certe cose sono cambiate quando ho cambiato il canale, sono tornate nei stessi posti, ma le cose erano cambiate, tipo... Certo, cioè, nel senso, certe cose erano cambiate, tipo che tu eri ancora vivo. Perché sono morto qui? La tua testa ha fatto un piccolo saltino. Ah. E che facciamo? Vado prima io. Seth può fare rewind. Poi non posso permettermi di perdere di nuovo. Che cosa stupida. È l'unico modo. Enter the password. Me la sono dimenticata, d'accordo? Ok. L'avete deconcentrato. Buona giornata. Così, a caso? Ce l'abbiamo fatta. Non succede assolutamente niente. Ditemi che la musica ricomincia, per favore. Grazie. Entrare nella tv? Sì. Felix! Ah! Che gioia sapere che sei vivo! E che dobbiamo trovare ancora un modo per scapparcene, ma almeno sei vivo! Ok. Facciamo che... Che che che... Sbaglio che questo channel non è più disponibile. Sì. Adesso è disponibile solo questo qua, il penultimo. E che devo fare? Eh? È stata un'ottima idea! Guardala, sono così felice di essere entrato in questo canale! Così felice! No way out! Ah! Beh, e io l'ho appena salvata. Bene. Spazio dell'abundance. Spazio dell'abundance. E la porta non si apre. Lo spazio della felicità. La porta si apre, ma scusami. Voglio prima vedere questa. Infila un ago nell'occhio. Sì. La porta mi sta fissando, ho notato. Ok, lo spazio del gorro. Direi che già sappiamo cosa ci aspetterà. E io non ho intenzione di entrarci, quindi... Nello spazio della felicità... Ci sono tanti occhi che mi fissano. Io non lo so. Ovviamente. Ovviamente mi hanno ammazzata. Certo. Era ovvio. Era ovvio. Era ovvio. Ovviamente era ovvio. E qua c'è una porta. Ho delle improvvise sensazioni da Eib. Se... Molto Eib. Ok. No, no. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno di essere così gentile da portarmi il contenuto della black box. Della green box. E della blue box. Ok, quindi... Black, blue, green. Nero, blu e verde. Voi siete... Gli fiori che dicono le bugie hanno una brutta memoria. La canna è rossa. Le violette sono blu. La mia più grande paura sono la canna e i melograni. What the fuck, raga? Non ho assolutamente idea di che cosa dovevi fare qua. Proprio nessunissimo. Va bene. E' Gorsia. Ok, si agita l'ottuno, l'ottuno, l'ottuno. Salve. Non mi fido di te, vai via. Ti ignora. Va bene. Signorina, lei mi può anche ignorare. Ma io... Ok, cerchiamo di non... Ah, non si fida perché ho... Perché ho ucciso una di queste robe? Oddio, santo, raga. Oddio, santo, raga. Beh, non... Questo è un melograno che è sia intero che no. Ok. Non ho assolutamente idea di quello che sto facendo. Si è aperta sta porta. A caso. Si è aperta questa porta. Oh, la blue box. Ah, porca cazzocco. Ok, capimo. Ok, capiscio. Oh, sì. Oh, la chi è inac этом. Uhm... Grazie a tutti.